Ancora una volta ci troviamo qui a parlare di un'azienda che è nel cuore di tutti noi e che rappresenta il goda del fermodellismo italiano, la Riva Rossi. La protagonista di questo video è la locomotiva elettrica E402B realizzata in Italia nei primi anni 2000. Nella realtà le sono stati affidati con vogli di rilevante importanza, sia merci che passeggeri. Molto spesso l'abbiamo vista in testa all'Orient Express. Il modello in questione sarà oggetto di un aggiornamento tecnotronico con l'applicazione di una nuova scheda elettronica realizzata a Tyler Made dall'azienda Almorose dotata di Nestone M Plux per l'inserimento di un decoder che le consentirà di viaggiare su tutti gli impianti gestiti in modalità digitale. L'aggiornamento non si limiterà a quanto descritto poiché la scheda che andremo a inserire è dotata di dispositivo sonoro che riproduce i suoni della locomotiva reale. Vedremo perciò insieme tutte le fasi necessarie ed opportune per realizzare quanto vi ho appena detto. Buona visione! Buona visione! e 402 b riva rossi e mainboard al morose un connubio perfetto per smontare il modello è sufficiente allargare la cassa e sfilarla verso l'alto il passo successivo è quello di staccare la scheda originale e l'intero cablaggio c'è da notare che le ultime produzioni riva rossi ancora made in italy vantavano l'innesto NEM 8 pin realizzato direttamente nella scheda elettrica con un saldatore vado a dissaldare i fili del motore e quelli relativi alle prese di corrente proveniente dei due carrelli il passo successivo è quello di staccare i diffusori cromatici che trasmettono la luce ai fari di marcia avendo cura di non spezzarli vanno staccate anche le due basette contenenti le due lampadine che cederanno il posto e led bianco rossi la nuova scheda elettronica al moroso è stata progettata per inserirsi perfettamente nel telaio assicurata ed incastrata dai quattro perni originali la stessa è dotata di dispositivo power pack che assicura una riserva di energia utile per vincere i brevi tratti di linea isolata ma anche di un innesto plux che permette l'inserimento del decoder in questo caso con dispositivo sound il kit prevede il diffusore acustico già montato nella scheda l'innesto del decoder è obbligato e a prova di errore è sufficiente orientarlo rispettando il foro cieco in linea con la spina mancante del decoder stesso di seguito il risultato non rimane che inserire la scheda nei quattro perni come illustrato nelle immagini consiglio a tutti di verificare l'ingombro delle quattro lamelle porta corrente all'altezza dei due carrelli nelle modelle in questione le ho dovute recidere in quanto urtavano il decoder rischiando di provocare cortocircuiti ed ecco la scheda inserita correttamente l'operazione si conclude saldando i fili nelle varie piazzole esorto tutti a scaricare il service manual e rispettare i vari collegamenti che a mio avviso sono semplicissimi le due mini schede con i due led bianco rossi relative alle luci di marcia vanno collegate elettricamente e alloggiate nel telaio esattamente come quelle originali un cablaggio ordinato e razionale vi aiuterà ad ottenere un risultato migliore e a garantire un buon funzionamento in ultimo ho ritenuto superfluo mantenere il contatto elettrico dei due pantografi e perciò lo scollegato il riposizionamento dei due diffusori ottici terminerà il lavoro per i più pignoli consiglio di verniciare due porzioni all'interno della cassa come figura evitando così trasparenze di luci una volta inserita la cassa il modello è pronto per essere collaudato presso l'impianto stigliano terme del caro amico Mauro Biolghini viaggine 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.